Il murale dedicato a Biagio Manganelli L'opera è stata realizzata dall'artista Marco Vecchio dopo aver condiviso con la scuola la storia di Biagio, le sue passioni per il mare, la musica, la poesia, la vita tutta. L'idea di questo murale è avvenuta nell'anno scolastico 2019-2020, per cui a febbraio 2020 abbiamo deliberato con gli organi collegiali della scuola di portare avanti questo progetto. Poi, come ben sappiamo, è stato impossibile continuare e lo abbiamo ripreso quest'anno, riuscendo finalmente a portarlo a termine. L'artista Marco Vecchio lo abbiamo conosciuto e insieme abbiamo deciso quale dovesse essere il murale dedicato a Biagio. Quindi questo ha significato raccontarci continuamente la storia di Biagio, il suo amore per la scuola, per la musica, per la poesia, il suo amore per il mare, il suo amore per la vita. Il nostro artista ha compreso, è entrato nel mondo di Biagio e ha saputo cogliere quella che era la sua anima, la sua anima bella, perché Biagio era veramente un'anima speciale, pura. E lo possiamo leggere anche nella sua poesia, quella che ha scritto pochi mesi prima di andare in un mondo, credo, migliore di questo, come una colomba bianca, quella che abbiamo qui sul nostro murale. E siamo molto felici oggi di poter donare questo murale a Biagio, alla comunità, ma soprattutto a Clelia e Giuseppe. E vuole essere per noi non solo un modo per rievocare la memoria di Biagio, perché Biagio è sempre nei nostri cuori, tutti i giorni, quotidianamente, soprattutto nei cuori dei ragazzi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di averlo come compagno, come amico, come studente. E quindi questo vuole essere un grande abbraccio di affetto per Clelia e Giuseppe. E speriamo che ogni volta che passino davanti alla scuola si possano sentire affettuosamente accolti ed abbracciati da tutta la scuola. Per me dipingere questo muro è stato come fare un viaggio, conoscere l'anima di Biagio attraverso i suoi versi, provare a immaginarlo. Conoscerlo attraverso le voci che mi lo hanno raccontato, forse non si muore mai veramente. E quanto racconta ai nostri microfoni l'artista che ha realizzato il murale, Marco Vecchio. È molto emozionante per me poterlo raccontare oggi, perché io non ho avuto il privilegio di conoscere Biagio di persona, ma attraverso le sue parole, le sue liriche e nell'affresco ho citato molte delle sue frasi, posso dire di averlo conosciuto. Un ragazzo pieno di vita che amava il mare, la musica, la bellezza. E questo è un affresco che tenta di raccontarlo, un po' come se fosse un ritratto di Biagio allegorico, dove c'è uno sciame di note che diventa rondini, il mare, il volo, agropoli, questo cielo-mare, quindi un mondo fluttuante. Tutti gli elementi che appartenevano a Biagio e che lo identificano. Marco, si dice che attraverso l'arte, quando c'è una morte giovane strappata alla vita, l'artista rivive momenti e sensazioni. Ti è successo mentre dipingevi questo affresco? Potrei dirti che a un certo punto io ho avvertito la presenza di questo ragazzo in me. È stato il lavoro più difficile in assoluto della mia carriera, questo posso dirlo, perché io non volevo tradire quest'anima meravigliosa. E quindi lo sforzo da parte mia, come artista e come persona, era quello di avvicinarmi il più possibile alla sua anima, per rendergli giustizia. Quando poi ho letto questa poesia e mi sono accorto che in fondo stavo andando in quella direzione, cioè che con i colori stavo restituendo l'essenza di ciò che aveva scritto Biagio, il suo amore per le nuvole, per la natura, perché era uno spirito animista, allora ho capito che ero nella direzione giusta. E poi conoscere la madre e mi porto come ricordo di questo affresco, il suo abbraccio è stata un'emozione molto molto forte. Tra gli ospiti presente il professor Paolo Apolito, antropologo di grande elevatura culturale. Sono davvero felice di poter prendere parte a questo evento, dichiara il professor Apolito. Per me è una gioia poter dire qualcosa su questo affresco e sul pittore Marco Vecchio che ci ha restituito Biagio attraverso l'arte. Questo affresco è bellissimo ed è un affresco che va guardato in tante prospettive, intanto da lontano per abbracciarlo tutto e poi da vicino, passeggiandoci accanto, perché ogni tratto, ogni passo che si compie è un'immersione in un gesto di trasfigurazione, perché l'arte a questo serve. Dicevo è molto difficile, ma poi per certi versi è persino facile. Noi umani siamo sottoposti alla morte, una morte giovane è una morte ingiusta, è una ferita che non si sana mai più. Una morte anziana è una morte naturale, una morte giovane è uno strappo, una violenza. Cosa possiamo fare noi viventi nei confronti della violenza di una morte giovane? Non dimenticare, vivere anche in nome di chi ci ha lasciati. L'arte in questo ha una forza straordinaria, perché l'arte trasfigura. In questo caso trasfigura la morte in vita, ma non perché la ignori o la rimuova o la dimentichi, al contrario, perché fa avvertire il senso profondo del legame che rimane tra chi non c'è più e chi c'è ancora. I giovani ragazzi, i compagni che suoneranno oggi e i compagni che continueranno a vivere e a festeggiare avranno, anche attraverso questo affresco, il segno di una permanenza di viaggio tra loro. Guardo il cielo e ammiro la sua immensità. Guardo il cielo e ritrovo l'essenza dell'essere infinito che è in me. Osservo l'azzurro striato delle nuvole, ora sottili, ora immensamente morbide, leggere essenze di una vita che scorre inesorabile ed eterna. Nuvole di cielo sopra di me e mi ritrovo ad osservare figure immaginarie, battaglie di eroi, volchi sacri che dominano dall'alto dei cieli. Voli di farfalle, giochi di bimbi e la fantasia si arricchisce l'infinito. Purezza dell'essere in un mondo ostile. Guardo le nuvole e mi sento leggero, libero i pensieri, respiro la leggerezza dell'essere. Guardo il cielo e mi sento leggero, libero i pensieri, respiro la leggerezza dell'essere.